E' stato inaugurato domenica 3 ottobre a Campoverardo di Camponogara un nuovo parco dedicato alla memoria del filantropo e ricercatore storico Giacomo Giantin, persona di questo paese in provincia di Venezia ma molto noto anche negli ambienti culturali della città lagunare. Durante la cerimonia si è tenuta la benedizione dell'area che è stata realizzata grazie all'intervento del gruppo culturale El Troso assieme ai vivaisti della zona e all'amministrazione comunale. Ed eccoci qua a Campoverardo di Camponogara in provincia di Venezia per l'inaugurazione del parco dedicato allo storico Giacomo Giantin, un filantropo amante dell'arte e della storia. Oggi qui a Camponogara i ragazzi hanno lanciato dei palloncini colorati in segno di amicizia ed è stata anche scoperta una targa dedicata appunto a Giacomo Giantin nonché la casetta dei libri. Giacomo Giantin era nato a Tribano ma ha vissuto a Campoverardo per oltre 80 anni. Era un appassionato di storia e amante della musica frequentando i più importanti luoghi della cultura veneziana. Tra i personaggi che ha frequentato anche il pittore Ernani Costantini autore della tela posta sul soffitto della chiesa parrocchiale di Campoverardo ed intitolata Concilio Vaticano II. È stato autore di testi poetici e letterari in gran parte inediti. Ha vissuto nella villa Sansoni Dragonetti, oggi Giantin, e si è particolarmente interessato alla vita e alle opere del marchese Federico Manfredini. Nato a Rovigo è diventato funzionario del Granduca di Toscana per poi acquisire il ruolo di precettore dei figli di Leopoldo, uno dei quali diventò imperatore d'Austria. Grazie al suo impegno alla corte di Lasburgo d'Austria acquisì il titolo di marchese per spostarsi prima a Padova dove dimorò in Prato della Valle e poi a Campoverardo di Camponogara dal 1811. A lui toccò anche un periodo di esilio a Messina. Anche di tutto questo si è interessato Giacomo Giantin e Campoverardo e l'intera comunità di Camponogara hanno voluto tributargli un ringraziamento per aver fatto innamorare tanti giovani alla storia e alle arti. Durante l'inaugurazione sono intervenuti anche i parenti di Giacomo Giantin. Sono stati letti dei brani scritti da Giacomo ed è stato ricreato un angolo del suo studio. Inoltre è stata anche scoperta una targa con il suo nome ed inaugurata la casetta dei libri ovvero un contenitore in legno dove le persone potranno prendere e leggere dei libri ma anche posizionarne degli altri.